Lei lo sa perché Alessia, anzi ti amo e non vedo l'ora di arrivare a casa. Ecco questa è stata la dichiarazione d'amore riportata da Andrea Cavasi che domani giustamente posteremo nel sito internet, cara moglie di Andrea, tu devi sapere che oggi lui si è proposto di fare lo speaker dando a me il ruolo in qualità di speaker e di correre del suo apporto perché sono più veloce, il perché adesso te lo spiega lui. Secondo me lui ha tante qualità che io non ho, diciamo da... Adesso questo è in dubbio, è carissima. Aspetta un attimo, le misure sappiamo quali sono, no? Grazie, grazie. Amore, le hai viste, no? Secondo me lui ha un passo molto più veloce, lui in linea è come un serpente, si destreggia, è vicido, lo vedi, lo vedi, è un lupo, è un gatto pardo. Io purtroppo inizio a avere un po' anche di atrozi, qualcosina, però vedi che mi sto sempre dando da fare. Comunque oggi, come oggi hai visto il risultato che ho dato, terzo posto in campionato non è male, no? Quindi potremmo sempre darlo. La diamo perché tutti abbiamo bisogno di darla. Grazie a tutti.